Quante volte hai immaginato di scendere sul terreno di gioco dello stadio più titolato al mondo? Realizza il tuo sogno, entra in campo anche tu e segna un rigore a San Siro con la Notte Bianca 2013. Sabato 25 maggio dal mattino alle 10 fino all'una di notte. Scopri i segreti della scala del calcio. Visita gli spogliatori dei campioni e il museo con i cimeli unici al mondo. Acquista ora i tuoi biglietti. Approfitta degli sconti famiglia e di un ulteriore 10% se compri online su san siro.net. Notte Bianca San Siro. Il divertimento. Scende in capo. Grazie a tutti.